20 anni, 20 anni sono un punto d'arrivo, una partenza, sicuramente un patrimonio? Ma sicuramente un patrimonio ma non guardo mai indietro per cui andrò avanti. Se non sono successe tante cose in questi 20 anni, insomma se dovessi fare un po' il... Sicuramente sono successe tante cose nel mondo in questi 20 anni, è cambiato il mondo, è cambiato il mondo della moda, è cambiato questo mestiere, questo lavoro, è cambiato tutto, non avevamo internet 20 anni fa, solo questo ci basta pensare, la velocità con cui lavoriamo oggi, la velocità con cui dobbiamo preparare le cose e niente, anche la prospettiva con cui guardiamo le collezioni. Ma quello di cui mi sorprendo da sola in questi 20 anni di essere riuscita a mantenere questa marchio, questa grande storia italiana, sì, in una posizione così rilevante nel mondo della moda e avendo avuto tante punte veramente forti di tendenza in questi 20 anni. Di sicuro so che non mi fermo, non guardo mai indietro, sono molto attaccata alle mie radici, sono molto attaccata alla mia famiglia, ai valori di tutto quello che rappresenta anche nella moda, però guardo sempre avanti, non mi siedo mai, non mi rilasso mai sul passato. L'ultima battuta sulla collezione che recupera anche disegni e filati di archivio, se ho capito bene. Recupera delle, questa collezione era una collezione per la mia festa, volevo che tutti questi ragazzi partecipassero alla mia festa e a questo punto sì, tutto quello che c'è e ci sono delle, un recupero di questi, di giaccare disegni di queste maschere della fine degli anni 80 perché pensavo che fossero perfetti per andare a una festa. Grazie